Estate, tempo di vacanze, tempo di viaggi in auto, con lunghi tragitti, a pieno carico e considerato il clima, su strade roventi. Purtroppo sono sempre di più le auto che circolano con pneumatici consumati, rovinati o non in regola. Una vettura su quattro a livello nazionale presenta non conformità. Sono questi i numeri dell'annuale indagine promossa a livello nazionale dalla Polizia Stradale in collaborazione con Assogomma. In Italia sono stati 13.500 i controlli mirati svolti dagli agenti, un centinaio dei quali nella provincia di Lecco. Nel nostro territorio il 6% delle auto controllate aveva un battistrade inferiore al millimetro e 6. Aveva insomma le gomme lisce. Il 19% dei veicoli non aveva invece pneumatici conformi, vale a dire in linea con le tipologie omologate per quella categoria di vettura. Il 3% delle auto controllate montava invece pneumatici non omogenei, cioè di tipologie differenti. Il 2% con difetti visibili a occhio nudo, vale a dire con problemi che potrebbero pregiudicare la tenuta della gomma stessa, come tagli, strappi. E infine l'1% delle auto circolava con pneumatici non omologati. A completare il quadro, altri dati sui controlli. I veicoli con meno di 10 anni presentano problemi ai pneumatici in un controllo su quattro. Per i veicoli con oltre 10 anni di anzianità la percentuale sale circa il 40% del campione, cioè due auto su cinque. Secondo lo studio questo evidenzia che negli ultimi anni gli automobilisti non solo non hanno sostituito la loro vettura, come dimostrano i dati di vendita in forte riduzione con il conseguente invecchiamento del parco circolante, ma non hanno nemmeno provveduto alla manutenzione ordinaria.